La Pentecoste si avvicina e come consuetudine negli ultimi anni il rinnovamento animerà una novena di preghiera proprio in preparazione alla Santa Veglia di Pentecoste che si terrà a Lugano il sabato 26 maggio nella Chiesa di Santo Antonio con il nostro Vescovo Monsignor Grampa che celebrerà la Santa Messa Vespertina di Pentecoste. Questa novena sarà un vero e proprio percorso itinerante per tutto il cantone da Mendrisio fino a Pollegio per poi concludersi a Lugano appunto con la Veglia di Pentecoste. È un appuntamento di grande grazia dove mediteremo ogni serata un dono particolare dello Spirito Santo e faremo anche delle adorazioni eucaristiche. È un evento di grazia che si collega a altri due eventi molto importanti per il rinnovamento. L'appena conclusa conferenza nazionale dove a Rimini 20.000 persone del Movimento hanno festeggiato il giubileo, i 40 anni dalla nascita del Movimento in Italia e il vicinissimo incontro con il nostro amato Benedetto XVI che ha invitato il rinnovamento a preparare con lui la Pentecoste in San Pietro proprio il sabato 26 maggio.